buongiorno sono franco carabetta technical sales manager della rupes sono ospite oggi presso la liuteria guarnieri di vigliano biellese cliente che c'è stato presentato dal nostro partner rivenditore nuovo multicolor di vigliano biellese per testimoniare il sistema di lavorazione rupes che ha intrapreso da un paio d'anni a questa parte e quindi presentare quelle che sono state le innovazioni tecniche trasmesse e presentate appunto alla liuteria il sistema innanzitutto di preparazione che prevede una levigatura con levigatrici di ultima generazione che sono con motori brushless e la conseguente aspirazione delle polveri polveri che sono dannose per qualunque tipo di lavorazione peculiare e di un certo livello e la successiva operazione che è quella della lucidatura che veniva fatta con un sistema spazzole e rotativo sistema che comportava un stress estremo da parte dell'operatore perché con una marginalità di errore veramente veramente bassa abbiamo presentato quindi il sistema bigfoot roto orbitale sistema che oltre che ad aumentare sensibilmente qualità del risultato finale concede la possibilità all'operatore di lavorare in maniera sicuramente più rilassata e ottenendo un risultato in tempi e qualità superiori mi chiamo alessio guarnieri e sono il titolare della liuteria guarnieri di vigliano biellese ho cominciato il mio percorso nel mondo della liuteria nel 2010 quando mi sono iscritto alla civica scuola di liuteria di milano e dopo quattro anni ho concluso il mio percorso di studi nel 2014 ho aperto il mio laboratorio qui a vigliano biellese mi occupo principalmente di costruzione di chitarre classiche acustiche e ukulele e anche di riparazione di strumenti a pizzico in generale sono venuto a contatto con il mondo rupes e i suoi prodotti un paio d'anni fa grazie alla multicolor di vigliano biellese che mi ha dato l'opportunità di provare alcuni degli utensili che ad oggi uso per le fasi finali della lucidatura dei miei strumenti rispetto ai prodotti che usavo in precedenza sono riuscito con i prodotti rupes a guadagnare molto dal punto di vista della qualità finale sui miei strumenti ma anche tagliare molto sulle tempistiche di lavorazione riuscendo non solo a lavorare meglio appunto dal punto di vista qualitativo ma anche in maniera più efficace e anche più rilassata a lavorare meglio appunto dal punto di vista della lucidatura dei miei strumenti rispetto ai a lavorare meglio appunto dal punto di vista della lucidatura dei miei strumenti rispetto ai